Attimi di paura ieri sera in via Gramsci a Salerno, dove un padre ed un figlio sono stati aggrediti da un 32enne già noto alle forze dell'ordine. I due sono stati colpiti da diverse coltellate sferrate dall'uomo al culmine di una lite nata per motivi ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio il padre è 61enne, colpito da ben sette fendenti. Entrambi i feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Salerno, dove sono stati dimessi contro il parere dei sanitari con prognosi di 15 giorni. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni aggravate e trasferito nel carcere di Salerno Forni.